Ma sai il problema è che quando tu hai giocatori di questa stazza dentro al campo, giocatori alla Foglia, alla Jonas, vedono, leggono la difficoltà della squadra nel trovare la manovra e a quel punto pensano la risolvo da solo, che invece facilitano solamente in questo caso la difesa del Pescara che è molto attenta e concentrata. Adesso c'è tutto, un secondo tempo a giocare sarà lunghissima, però intanto abbiamo ritrovato il Pescara che avevamo lasciato l'altro anno e questo è fondamentale per il proseguito del campionato. Allora in attesa che le due squadre rientrino in campo, noi diamo la linea ancora alla pubblicità, poi torniamo in diretta al Parco Gioviano per andarci a gustare questo secondo tempo. Torniamo in diretta dalla pala Rigopiano di Pescara in attesa che le due squadre rientrino in campo. La Fonso Pescara, la marca Fuzza, certo è che il Pescara ha disputato sicuramente un grande primo tempo, il doppio vantaggio, poteva essere ancora più rotondo con quel palo colpito da Schurz. La grande azione della formazione di Mario Patriarca, marca in difficoltà, marca campione in Italia, questo è il remake di quella grande finale dello scorso anno con il Pescara che si è andato lì ad un passo dal sogno. Certo è che poi la marca si è andata a prendere immediatamente uno scudetto, ma questo è un match sicuramente sentito dai tifosi che hanno visto sfuggire quel sogno. Di fronte a vedere, a trovare la marca non è mai facile giocare contro una formazione di questo calibro con questo grande roster. possibilità, tante possibilità in questa stagione, una marca che sta cercando di inseguire la Luparense sempre più in testa alla classifica. Ricordiamo oggi che la Luparense ha vinto 9 a 0 con il Putignano, poi andremo a vedere anche tutti gli altri risultati. Sì, guarda, per il momento Luparense è nettamente la migliore squadra del campionato. Fino ad ora la marca poteva dire che era lì ad inseguire, ha perso solo lo scontro diretto anche se in casa. Poteva essere stata una giornata storta, ma oggi sta trovando un Pescara che l'ha messa in grandissima difficoltà. Adesso dovrà tirare fuori tutte le risorse della squadra di Polito, se vuole recuperare questa partita, ancora ampiamente tutte le possibilità, anche perché francamente sarà difficile che possa ripetere questo primo tempo il Pescara. Io me lo auguro per gli uomini di Patriarca perché è stata bellissima la partita grazie a un Pescara super. Andiamo a vedere un po' i risultati di questa giornata. Nei minuti finali la Cus è accorciata sul Caos Futu. Pensate, le risultate 4-3 a favore del Caos sulla formazione in trasferta contro l'Auguri. L'Auguri è giusta, l'Arieti ha raddoppiato invece sull'Acqua e Sapone, Acqua e Sapone che vedremo la prossima settimana proprio in casa nell'altro derby sempre contro il Pescara, perciò altro grande match sicuramente da seguire su Rai Sport. Le squadre adesso sono rientrate in campo per disputare questo secondo tempo, ricordandomi che comunque il match tra Biscegli e Assi si giocherà domani, l'unico match di questo turno da giocare. Domani la sfida tra la formazione dell'Assi che in questo momento è al quarto posto in classifica, anzi in questo momento si è vista superare in classifica dal Montesilvano con 29 punti, rimane dunque a 28 ma c'è una gara in meno da giocare. Il match è finito col Caos che si va a prendere questa importantissima vittoria contro la formazione dell'Augusta, 4-3. Si riparte dunque con la marca alla sinistra dei vostri teleschermi in maglia, Fucsia, pantaloncini neri completo invece bianco a strisce e azzurre, consueto completo della formazione da Ponzio Pescara, Ponzio Pescara con un sede di Patriarca e sul 2-0 sui campioni d'Italia, ricordandomi che è l'andata fra i 4-0 invece per la marca Futsal, con le reti da parte di Coco, due volte Cilaverte e Jonas. Adesso prova con due ultimi, Jeff e Cilaverte, due piccolini davanti, Papù e Foglia. Vuol cercare di togliere un po' di equilibrio alla difesa del Pescara, Chiacopo Lido. Intercetta Foglia questo pallone, Jeff va alla battuta, Nicoloci in fallo laterale. Fallo laterale per la marca con Foglia, si fa vedere Jeff il passaggio per Cilaverte, subito di prima verso Pupu che prova a girarsi, controllato da Davia, ancora con Foglia, di foto lui c'è Nicoloci, il tiro di Foglia, che grande parata da parte di Baricelli. Ma bellissima perché la vista è sbucata sotto le gambe di Schurz all'ultimo, di Davia all'ultimo. Guarda qua a Nicoloci. Attenzione Nicoloci, se ne va tutto solo, il passaggio al centro, poteva andare a calciare, Midaglia recupera questo pallone Foglia, partita sempre a ritmi velocissimi, Foglia, attenzione fa blocco Papù, il tiro di Foglia, la parata ancora di Baricelli. Che portiere all'Italia tra Baricelli e Marini. C'è il fallo su Papù di Pessé, però non è molto convinto Pessé. Non lo so, rivediamo, non mi è sembrato fallo, mi sembra che abbia allontanato il pallone. Perché Papù si fosse un pochino troppo appoggiato, vediamo un po'. Certo la mano c'è. Allora se la vogliamo dire tutta, sta dentro l'area di rigore. Perciò se era fallo era rigore. Beh. Punizione dunque per la marca, la rincorsa di Duarte. Papù è in aria, Foglia è sulla destra, vicino a, in orizzontale su Duarte c'è Wilken. Pessé sul, su uno dei due pali, Schurz dall'altra parte, parte la rincorsa di Duarte, il tiro, la parata ancora di Baricelli, ancora, ci prova Duarte, ancora però l'intervento di Baricelli, tre su tre. Rigore. Rigore. E' spulso Pessé allora, se è il calcio di rigore. Attenzione, il cartellino giallo per, per Pessé. Pallo di mano forse, non lo so. Vediamo, vediamo. Molto strana questa decisione, andiamo a vedere un po'. Era sembrato Baricelli che avesse parato in diretta. Sì, infatti io ho detto il terzo intervento di Baricelli, rivediamo. Vediamo, allora qui Baricelli para. E qui va bene. Qui caccia ancora Duarte. Baricelli ancora, vediamo un po'. Poi caccia Foglia. E' il meglio. Palla sul braccio. Entrava. Hanno visto bene gli arbitri, Foglia. L'unica cosa, non si capisce il cartellino giallo. No, infatti è cartellino rosso. E' il cartellino rosso. Pensé ancora che va a parlottare con il primo arbitro, rincorsa di Foglia contro Baricelli. Parte Foglia. Il tiro alla rete, a corsa, le distanze con Adriano Foglia, la marca. Tutto di nuovo in gioco, in questo match. Beh, ma si sapeva che la gara non era finita. Tanto però Pescara, adesso rivediamo un attimo, vediamo bene. Parata bellissima in Baricelli, poi ancora tiro e parata ancora in Baricelli. non mi è sembrato braccio aperto. E qua non si vede. Qua non si vede. Coperto proprio dal corpo di Foglia. Attenzione, arriva un cartellino rosso. Per un giocatore, dovrebbe essere il numero 17 della formazione di Julio, il giocatore della Pozzo Pescara, espulso dall'arbitro, il giocatore che era in panchina. Vediamo, vediamo, vediamo qua. È strano, perché a me sembrava il petto, però vediamo qua. Vediamo, a me sembrava domani. Sembra male, sembra qua. Però non è facile. Non è facile, però non è che è una cosa scandalosa. La posizione a favore ancora della marca. Secondo fallo. Secondo fallo dopo, terzo fallo per la marca. Quarto fallo, no. Un momento veramente di confusione. Non deve perdere la calma però il Pescara. Ha fatto una grandissima partita. Sta rovinando, sta rovinando tutto qua. Vediamo un po'. Eh sì, c'è fallo. C'è fallo di Schurz. Falli inutili poi. Fallo in attacco di Pessé. Qui un fallo di un giocatore sta tornando indietro. E mancano 18 minuti, si gioca solo da due minuti. Un'altra partita. Quattro falli per il Pescara. Un'altra partita. Senza testa il Pescara è ritornato in campo. Una partita che ovviamente è riaperta dopo il gol su rigore di Foglia. La rincorsa da parte di Jeffe. Lascia il pallone a Foglia. Il pallone in mezzo con il rilancio da parte di Davide. È dura, perché 18 minuti e mezzo con quattro falli in un minuto e mezzo. hai preso gol su rigore. E ti dico la verità, sembrava calcio di rigore, però è stato anche graziato per sé, perché poteva essere espulso. Assolutamente sì. Comunque la formazione del Pescara si sarebbe ritrovata con un uomo in meno. Adesso tu magari hai visto più il petto. Io ho visto più il petto, però è una situazione difficile. L'arbitro comunque era lì. Io ho visto un pochino più il braccio alto, però se l'arbitro fischia il rigore deve dare espulsione. Lì potrebbe essere anche un problema di prospettiva, sai, è difficile, ma l'arbitro era comunque lì. Quello che mi lascia, il dubbio mi lascia solamente il fatto del cartellino giallo e non il rosso. Perché in questo caso avrebbe stata espulsione diretta. Se lui prende il pallone con la mano sulla linea di porta, rigore e espulsione. Rigore e espulsione. Pesce, Davide, lo scambio da due, il passaggio verso Barigelli. Si fa vedere Nicologi, rilancio di Barigelli. Perso il filo, perso il filo del discorso. Se è nervosito deve cercare di calmare i suoi, Maglio Patriarca, perché non possono buttare un primo tempo come quello che ha disputato il Pesce. Ovviamente è giocato ad altissimi livelli, intanto Urieti ha triplicato il suo vantaggio. 3-0 sull'Acqua e Sapone. Il colpo di essere Nicologi. Il tiro dalla lunga distanza da parte di Vilch, che palla che si va sul fondo, non riesce a inquadrare la porta a Vilch per il capitano. Lentra intanto Fornari al posto di Schurz. Il colpo di testa da parte di Papù. Attenzione, intervetti di Colosio a gamba tese, arriva il fallo. Indiretto. Indiretto, quindi non viene sommato ovviamente ai quattro già. Il fallo è stato consegnato alla Pescara invece. Qua assolutamente no. C'era punizione indiretta, ma per la marca sicuramente. Anche secondo il mio punto di vista. ha messo la gamba tesa altissima. Da unicologico, e arriva adesso il cartellino giallo per Vilch perché si è andato a lamentare. Guarda, io devo dire una cosa importante. È difficilissimo arbitrare questa partita. Partiamo da questo presupposto, però gli arbitri devono mantenere il polso perché altrimenti diventa dura. Come è stato nel primo tempo. Nicoloci prova a girarsi su Jonas. Due giocatori su di lui va a recuperare il pallone di Vilcham. Jonas sulla palla. Si allarga Papù. Parte Papù. Vilcham a cercare proprio Jonas contro Nicoloci. Ancora Jonas nell'uscita di Barigelli. A bloccare tutto a far ripartire il Pescara. Nicoloci. Si accentra Nicoloci. Ancora un fallo. Questa volta su Fornari. E questo fallo ovviamente vale come come fallo diretto. Sì, però voglio dire un fallo a palla lontana c'è il cartellino giallo. Io non ho visto neanche quello che è successo seguendo l'azione. Ma se tu fischi un fallo a 25 metri dalla palla è evidente che un fallo a palla lontana c'è il cartellino. Fornari sul pallone c'è anche Cilla Vert. La lunga rincorsa di Pessé. Davide se ne va al centro dell'aria c'è Lucia Wilken e parte Pessé. Tocco per Fornari palla che viene deviata sulla riga l'occasione per il Pescara che si sveglia dalla situazione di Letargo. Qui Fornari ha calciato forte tentando una correzione invece verso Pessé che lo riesce a scattare contenuto da Jonas. Dovrà gestire Pescara ovviamente in questo in tutti i 17 minuti abbondanti che mancano al termine del match il vantaggio ancora per la conazione di Mario Patriarca 2 a 1 ma Foglia che su rigore ha riaperto il risultato. Ma dovrà gestire soprattutto la situazione falli che non è per niente semplice 4 falli in un minuto e mezzo Wilkem Duarte spalla alla porta controllato da David il tocco per Wilkem Jonas fa sfilare il tiro di Wilkem scusate Jonas la deviazione fallo laterale c'è stata quella fiammata adesso sembra che il Pescara si sia un po' calmato e abbia ripreso il quadro della situazione in mano nel senso è più tranquillo sta gestendo meglio il momento della partita Miraglia del Sione sbaglia il suo passaggio Jonas recupera questo questo pallone con De Luca intanto che è entrato lui il terreno di gioco Wilkem lo scambio Duarte si libera si accentra i giocatori vanno a bloccare l'avanzata da parte di Duarte Jonas lui a portare palla verso Wilkem verso il capitano della marca campione d'Italia passaggio indietro per Duarte il taglio in verticale per Wilkem attenzione si gira Wilkem il grande diagonale palla sul fondo ma Barigelera lì a controllare eh ma buono adesso la marca comunque sta giocando di squadra quello che non ha fatto il primo tempo probabilmente questo è dovuto al fatto che è meno aggressivo il Pescara in fase di pressione sul portatore di palla sia perché forse è un po' stanco sia perché i quattro falli commessi non gli permettono di prestare molto aggressivo Davi in verticale per Fornari palla in fallo laterale non c'è fallo rimessa sarà proprio per la marca rimessa in gioco con Wilkem si deve girare parte Duarte si deve fermare Wilkem che prova a lanciare questo pallone che era comunque veramente ad un soffio dalla porta di Barigelli palla che se ne va sul fondo riparte la marca questo lancio della Pescara con questo lancio di Fornari che se ne va sul fondo l'ha visto col terzo occhio qui Wilkem ha fintato il passaggio ha visto il portiere usciva ha tentato un pallonetto allontanissimo non gli è riuscito per pochissimo De Luca per Duarte un taglio sbagliato Jonas applaude il suo compagno con la palla è out rimessa in gioco da parte della della Ponzo Pescara tocco per Nicologi Fornari Davi per vedere Pessé riceve il va palla se ne va la gana è giocata su Duarte Pessé deve tornare indietro recupera il pallone la marca Miraglia tocco verso De Luca attenzione recupera questa palla con Pessé il tocco di Pessé la parata di Miraglia che esce addirittura e poi calcia questo pallone un'altra occasione per il Pescara grande opportunità qua per Pessé però cercano sempre una cosa di troppo un preziosismo invece di giocare di potenza poteva calciare forte Pessé l'occasione era ghiotta sbaglia Fornari palla in fallo laterale è messa per la marca Jonas Nicoloci sempre a controllare Jonas Vilken spalla la porta controllato da Davide prova a girarsi c'è sempre Davide però il taglio orizzontale verso Duarte su Fornari lo scambio con Vilken taglio verso De Luca si accentra De Luca attenzione prova a calciare Fornari esce Nicoloci ruba questo pallone se ne va in velocità il taglio attenzione con Fornari Pessé la palla dentro 3 a 1 la grande azione del Pescara doppio vantaggio di nuovo ancora una volta fa benissimo Nicoloci che è lui che fa partire il contropiede superiore di Danumerica poi Bravo Fornari a servire Pessé che questa volta mette dentro guarda qua Bravo Fornari ruba il pallone guarda come crea la superiore di Danumerica superando Wilken Nicoloci e poi passaggio facile 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 qui di Fornari per Pessé che mette dentro 3 a 1 è rimasto a terra dovrebbe essere De Luca il giocatore della della marca sul 3 a 1 per il Pescara che è uscito da un incubo è entrato in campo malissimo la squadra di Mario Padrarca ha subito tantissimo la marca è arrivato il rigore giusto De Luca intanto viene trascinato viene portato fuori a braccia no ci sono la mentale perché penso che era a terra De Luca quando è partita l'azione non lo so io stavo seguendo l'azione Nicoloci non poteva vederlo perché lui è partito in contropiede ha dribblato Wilken e poi ha messo via il pallone dalla parte opposta e a prendere un altro cartellino questa volta i giocatori della marca c'è anche Schurz sono detti qualcosa ovviamente tra le due panchine è molto nervosismo ribadiamo questo è un match sentitissimo alla finale dello scorso campionato poi vinto dalla marca il suo primo scudetto meritatamente la Pescara era lì a giocarsi l'opportunità 3 a 1 dunque con la rete di Pessè ancora nervosismo tra le panchini si riparte con la marca che c'entra questo pallone dopo la terza rete della Pescara Wilken per Adriano Foglia c'è anche Jonas in campo Wilken una finta da parte di Wilken l'uscita di Perigelli controllato da Pessè Davi pressi da parte della formazione di Tiago Polito una finta di Nicolò attenzione atterrato da parte di Duarte e questo è un fallo Polito espulso espulso Tiago Polito no forse no forse non lo so se Polito non so Riella Riella il preparatore il preparatore ha messo quel cartellino c'era Polito lì vicino invece no il preparatore che se ne va negli spogliatoi terzo fallo per la per la marca 4 per il Pescara beh adesso è più importante il fatto che hanno avvicinato attenzione Nicolò il tiro il triangolo con Fornari Bravo Wilken diagonale difensiva perfetta è andato a chiudere dalla parte opposta azione molto pericolosa ancora una volta con l'1-2 era saltata la difesa della marca ancora con la marca questa palla accetta attenzione la rete di Fornari 4 a 1 per il Pescara Bravo Fornari ha avuto il tempo di stopparla l'ha preso con il controtempo il portiere palla sotto le gambe gran gol di Fornari 4 a 1 pubblico letteralmente impazzito in delirio il palaricopiano e li vediamo grazie a Roberto Gambuti questa quarta rete della Ponzio Pescara e qui Wilken è un po' un po' lento come marcatura ha lasciato troppo spazio marca adesso proverà ad accorciare nel punteggio il grande organico di questa formazione campione campione d'Italia Pescara si sta prendendo una rivincita Foglia attenzione in verticale va a recuperare questo pallone Nicoloci prova a allargarsi Fornari parte Nicoloci attenzione la palla al centro Fornari però non è riuscito a inserirsi nel taglio e forse c'era anche qualche fallo sulle ripartenze qualche trattenuta di troppo qualche sgomitatina che ci può stare a terra Wilken comunque andasse a terra intanto Wilken si riprenderà con una punizione attenzione con palla portata da da Foglia verso Jonas c'è tornato in campo anche Jeff Duarte di fronte c'è Davide prova a andarsene a Duarte il grande intervento di Davide in calcio d'angolo Jonas attenzione con Foglia Jeff Duarte Foglia ancora prova a centrarsi ancora Baricelli Jeff prova a girarsi il tiro da parte di Jonas che accorcia le distanze è stato molto bravo Jonas qui perché è arrivato da dietro ha visto la situazione era una palla sporca ancora una volta era stato bravo Baricelli Fornagli è entrato in ritardo su Jonas non si è accorto che arrivava da dietro con la puntata anticipato tutti ha messo dentro partita ancora ancora aperta non riesce a stare tranquilla ma Pescara Marca che come abbiamo detto ha perso due partite in questo campionato una con la Luparenza in casa 5 a 3 e con il Montesilvano 4 a 1 adesso è sotto 4 a 2 con il Pescara Pessere con questo pallone c'è stato anche il tocco di Jonas però l'ultimo tocco era stato proprio del capitano di Pessere comunque manca ancora 13 minuti tantissimo per questo per questo match non può smettere di giocare il Pescara non deve fare l'errore di smettere di giocare perché dopo il blackout dei due minuti ha ripreso in mano la situazione dal punto di vista del gioco e ha segnato altre due reti deve continuare a giocare se vuol vincere la partita passaggio indietro per Foglia prova a ripartire la marca di Tiago Pulido Jonas uno contro uno con Davide cerca un turno e non ci riesce recupera il pallone Pessere riparte il Pescara Fornari il tocco indietro saggiamente verso Schurz tre uomini su di lui di nuovo per per Davide attenzione va a recuperare questo pallone Fornari Jonas non c'è fallo anche se la marca lo chiede il fallo Pessere andrà la palla in fallo laterale con Jonas che rimane a terra e adesso i falli diventano pesanti qui c'era preso la gamba d'appoggio guarda qua gamba d'appoggio no forse no forse è lui che piega la gamba non era facile comunque è chiaro che adesso i falli diventano pesantissimi gli avvi una partita troppo difficile molta confusione molto nervosismo sulle panchine e in campo 4 a 3 situazione falli con il pescare avanti ma pescare avanti nel risultato la cosa più importante 4 a 2 comunque i giocatori non danno certo una mano ai direttori di gara no assolutamente no non è facile come dicevi arbitrare un match di questa intensità e con questo nervosismo ancora palla adesso viene recuperata dalla marca un controfallo con Duarte deve fare attenzione il pescare perché la marca è una squadra esperta sa approfittare dei momenti difficili delle squadre avversarie Jeff il tocco da parte di Fornari Pesse va a far spizzare il fallone su Jonas e va a guadagnarsi questo fallo laterale si poi protesta dalla panchina Wilken vuole il fallo laterale mentre giustamente Jonas non progressava perché sa che ha toccato lui il pallone da lontano ormai attenzione la palla al centro la grande rete di Schurz ma cosa ha fatto Davi Davi ha rimesso dentro benissimo il pallone Jeff si è fatto una dormita clamorosa e Schurz ha fatto un tapin vincente guarda che bellissima questa partita bellissima veramente un altissimo livello di calcio a 5 da due grandi squadre ovviamente ci sorprende il pescare per come è cresciuto dall'invio del campionato per quello che ha saputo mettere in campo in questa giornata la marca la conosciamo una marca che comunque questa sera è stata fino a questo momento in difficoltà attenzione Jonas si libera un dribbling su due o tre giocatori passati per due vediamo un po' la reazione della formazione di Jacopo Lito dal grande organico la squadra campione in Italia una sfinta di foglio il tiro esterno cosa vuol dire avere un giocatore come Pesset da sicurezza tutto il reparto è rientrato lui Pescara ha cominciato a vincere sembra il Pescara dell'anno scorso che ha sorpreso tutti e veramente sta facendo una grande partita Schurz va a bloccare questo pallone però la palla è out rilanciata da Barigelli Schurz se la prende con Barigelli ma Barigelli non aveva nessun compagno libero per cui ha tentato e poi alla fine si è dovuto sbarazzare il pallone per non subire un fallo di tempo Duarte si accentra prova a liberarsi di due giocatori il tiro ma c'è ancora Davie grande prestazione pure da parte di Davie attenzione Jonas si gira la palla colpisce troppo esterna non la prende piena se ne va sul fondo e qui ha la sporcata Schurz è stato bravo a mettere il piede Schurz guarda gli ha sporcato il tiro 5 a 2 per il Pescara triplo vantaggio intanto c'è un'ammunizione per Duarte e arriva anche l'espulsione per Duarte e da un po' di tempo Jack era in polemica con l'arbitro si forse voleva il fallo di Schurz su su Jonas a 11 e 40 dal termine del secondo tempo tantissimo manca al termine di questa di questa ripresa la formazione della marca adesso giocherà in inferiorità numerica per due minuti e il cambio e perde comunque Duarte ovviamente perde Duarte ma soprattutto deve giocare due minuti in inferiorità numerica adesso entra Zanetti che era un po' che non entrava giustamente adesso Pescara vuole sfruttare questa situazione per aumentare il vantaggio Schurz per Nicoloci in orizzontale non riesce a partire il Pescara Schurz si fa vedere Zanetti Schurz al tiro troppo alto no ma poi soprattutto molto lontano devono sfruttare meglio la circolazione della palla la trasmissione adesso pressare per cercare di far passare il meno tempo possibile palla che se ne va sul fondo la rimessa per la marca con Villa la trasmissione di far di far di far di far la trasmissione Fornari Zanetti ancora su per la numerica la formazione del del Pescara che trova con Zanetti il gol numero 6 6 a 2 è qui bravo Zanetti che è finta di girare il pallone poi si gira puntata di sinistro dritto per dritto Miraglia non è piazzato benissimo neanche la difesa 6 a 2 Pescara che controlla andiamo a rivedere grazie Roberto Gambuti pallone dentro la doppietta per